Oh fatela! Fatti le corde eh? A me mi gabbano più questo il suono di I-Forn Non lo si fa senza, amico? Ma che accordo a fornare la mano? Se è un'ora e mezzo Ficino pensaci di come sa fare Si, l'accordatore dell'I-Forn è quello che è Non lo si fa senza, amico Il nostro ritarrista è quello, eh Comunque è che nel 2013 Ancora abbiamo inventato una età di resta ancora da sola A me mi sembra una barzelletta Però tutte le volte Pi 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 Un'ora a questo E non si scorda mai Ehm